Marta, oggi il colloquio orale, la tua emozione, com'è andata? Beh, ansia mille ovviamente, però dai, tutto sommato bene, ce l'ho fatta, finalmente. È stata facile, difficile? Beh, allora, nel senso che comunque un minimo di preparazione ci vuole, però comunque abbastanza facile, dai. Ok, tu sei del corso turistico, programmi futuri? Sì, allora, la mia intenzione è quella di andare via all'estero, quindi appena posso vado via, non voglio stare qui. Ok, adesso arriva l'estate, però te la godi, dai, cosa farai di bello? Penso che magari mi troverò un lavoretto stagionale, quindi appena raccimolo un po' di soldi vado via. Benissimo, grazie Marta, bocca al lupo. Grazie a te.